Siracusa, rapina aggravata, armi ed evasione, 22 anni spedito in cella. Nella pomeriggio di ieri agente della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Siracusa nei confronti di un giovane di 22 anni accusato dei reati di rapina aggravata a porto illegale di armi ed evasione dagli arresti domiciliari. L'ha arrestato nel febbraio scorso, ha commesso una rapina nei confronti di una tabaccheria in Siracusa dopo le incombenze di legge il 22enne è stato condotto in carcere.